Il tuo bambino ha paura dell'acqua? Le hai provate tutte e non c'è modo di convincerla ad entrare? Nonostante tutti i tuoi sforzi non ha ancora imparato a nuotare? Nessun problema, per il tuo bambino ci sono i corsi di nuoto di Palestra California Come fare a imparare il tuo bambino a nuotare? È semplicissimo! Primo, iscrivvi il tuo bambino al corso Principianti Secondo, porta il tuo bambino sul piano vasca Terzo, affida con fiducia il tuo bambino alle nostre insegnanti Secondo, porta il tuo bambino alle nostre insegnanti Invece no, invece no Tu guardavi tutti meno me E io credevo invece che Ho deciso che mi putterò E qualche cosa combinerò Questa porta non ci sono Abbiamo presentato in chiave comica un argomento molto serio Che è la sicurezza dei bambini in presenza di uno specchio d'acqua In questo caso è molto importante la vigilanza degli adulti Come sapete Inoltre è molto importante che i bambini imparino al più presto a nuotare Non tanto per diventare campioni Ma perché in caso di caduta accidentale in acqua Sia garantita la loro salvezza e incolumità